Benvenuti sul Timora Gossip TV. Prima di iniziare ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere costantemente aggiornato. Un gesto semplice ma per noi significativo, grazie. Tina Cipollari, celebre opinionista del programma televisivo Uomini e Donne, è da oltre 20 anni un volto amatissimo della tv italiana. Il suo carattere divertente e riverente l'ha resa un'icona della televisione contemporanea. Da quando ha debuttato nel 2001 come corteggiatrice e successivamente come tronista nel programma condotto da Maria De Filippi, Tina ha attirato l'attenzione con il suo atteggiamento da vamp. I suoi capelli biondi, i vestiti appariscenti e boa vario pinti sono diventati il marchio di fabbrica di questo personaggio che non passa inosservato. Nel corso degli anni Tina Cipollari è diventato un'opinionista fissa Uomini e Donne, partecipando anche a due edizioni di Buona Domenica con Maurizio Costanzo. La sua personalità spigolosa e le sue opinioni dirette hanno contribuito a sollevare il dibattito sulle relazioni dei partecipanti al programma. Nonostante le voci che circolano sul suo conto riguardo la prossima stagione di Uomini e Donne, Tina ha recentemente smettito l'addio durante un evento al Pride Village di Padova. Ha dichiarato, le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso, penso di esserci ancora. Quindi i suoi milioni di appassionati telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo, sapendo che la loro beniamina li accompagnerà ancora per molto tempo. Tina Cipollari con il suo stile unico e la sua schiettezza continuerà a far parlare di sé nel mondo televisivo italiano. Se ti è piaciuto questo video mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanella e se ti va lascia un commento. Grazie!